Il nostro apparato digerente è composto da un articolato insieme di organi che lavorano in splendida armonia e non si limitano alla semplice trasformazione del cibo. L'intestino ospita migliaia di miliardi di batteri vivi e il microbiota intestinale, che contribuiscono a una varietà di funzioni vitali, come digerire ed estrarre nutrienti dal cibo, regolare la normale funzione del sistema immunitario e influire positivamente su salute e benessere generali. Un intestino non equilibrato può manifestarsi con una serie di sintomi, come imbarazzo o gonfiore di stomaco, variazioni di peso involontarie, sonno disturbato e stanchezza, o anche irritazioni cutanee e intolleranze alimentari. Un intestino è equilibrato se ha il giusto numero di batteri buoni. In questo possono aiutare i probiotici. Si tratta di batteri buoni vivi che, se assunti in quantità adeguate, favoriscono il benessere dell'intestino. I prebiotici, invece, sono sostanze che nutrono i batteri benefici e aiutano a ridurre il numero di batteri cattivi nell'intestino. Noi di Herbalife Nutrition crediamo che il benessere inizi dall'interno. Per questo siamo orgogliosi di presentare il nostro ultimo innovativo prodotto. Microbiotic Max. Microbiotic Max è un integratore alimentare che contiene 2 miliardi di batteri buoni vivi e fibre prebiotiche per porzione. È stato specificamente formulato con una combinazione di batteri buoni e fibre che agiscono insieme per supportare i tuoi obiettivi nutrizionali. Al delicato gusto di vaniglia, Microbiotic Max è senza glutine, è ricco di fibre ed è senza zuccheri aggiunti, coloranti, edulcoranti o conservanti. Le pratiche bustine monodose, oltre ad essere comode per il viaggio, aiutano a preservare l'integrità dei batteri vivi. Sciogli una bustina di Microbiotic Max in 100 millilitri di acqua a temperatura inferiore a 25 gradi, oppure aggiungilo dopo aver frullato il tuo Shake Herbalife Nutrition preferito. Microbiotic Max. Un miliardo di ragioni per star bene. Per ulteriori informazioni, contatta subito il tuo distributore Herbalife Nutrition. Un miliardo di ragioni per star bene. Per ulteriori informazioni,